Quando ritornerà Cristo, tra i miracoli che ci saranno, quello anche che l'aldilà comunicherà con noi e noi con loro, che Cristo squarcerà il cielo e quindi siccome il giudizio è universale, quindi per quelli che sono disincarnati che per quelli che sono incarnati, noi avremo la possibilità di ascoltare loro e loro noi. Adesso loro possono ascoltare noi, ma noi loro no. In quel caso, grazie alla presenza di Cristo, ci sarà questo contatto anche tra noi e loro, perché il giudizio è universale. Universale significa tutti i mondi che vivono dentro questo mondo, o meglio dire tutte le dimensioni che sono dentro il nostro mondo, quindi la dimensione materiale e la dimensione spirituale, perché c'è anche una dimensione spirituale nel nostro mondo che è quella dei nostri defunti, non sono defunti, diciamo che sono disincarnati. Quindi si squarcia questo cielo e quindi io vedo il mio papà e il mio nonno, tutti e Cristo giudicherà tutti.